Notizia dell'ultima ora, la procura di Pescara ha disposto il sequestro della Galleria di San Silvestro, variante alla Statale 16 che collega Montesilvano a Francavilla al mare dopo il cedimento avvenuto nel pomeriggio di mercoledì scorso di una parete laterale. Quando riaprirà la Galleria di San Silvestro di Francavilla chiusa a causa del crollo all'interno del rivestimento delle pareti laterali, come sottolinea ANAS, mercoledì pomeriggio, come avete sentito, attimi di panico in Galleria durante il nubifragio, fortunatamente nessuna grave conseguenza, ma innumerevoli disagi ci sono tuttora per il traffico deviato. L'ANAS non si sbilancia, è da noi contattata solo pochissime parole, le verifiche tecniche proseguono sulla variante tra Pescara e Francavilla al mare solo dopo aver appurato le cause del crollo attribuibile alla pioggia, ma si sta accertando anche a qualche altra situazione contingente, si potrà saperne di più. La società che gestisce la rete di strade statali e autostrade tiene a ribadire che il distacco non è stato causato da un problema strutturale. Anche i sindaci e gli amministratori spingono per conoscere la tempistica, ma niente da fare. ANAS perentoria, sui tempi della riapertura al momento non possiamo dire nulla prima di avere risposte esaustive. Intanto la parlamentare torto del Movimento 5 Stelle presenta un'interrogazione al ministro Salvini. Occorre stabilire, dice, le reali motivazioni di questi crolli e le infiltrazioni d'acqua al fine di intervenire in maniera efficace. La città più penalizzata dal caos delle quattro ruote è Francavilla al mare, dove Luisa Russo, il sindaco, afferma tutta la viabilità veicolare deviata in corrispondenza della Galleria San Silvestro e quindi al confine tra Francavilla e Pescara sul tratto cittadino. Non solo, anche il capoluogo adriatico è interessato da tale situazione e non bisogna dimenticare i comuni della Maruccina e dalla Val di Foro che per giungere a Pescara devono eseguire una vera e propria gincana. Tutti in attesa di conoscere le prime risposte di ANAS, che per ora non si sbilancia. Pochissime laconiche parole, ma un lavoro incessante e ala crea all'interno della Galleria. Tra gli automobilisti arrabbiati, per usare un eufemismo, qualcuno ironizza sui social, coraggio tra 30 anni e riaprirà. Non resta che smentirlo e che la Galleria San Silvestro, fondamentale per il traffico, possa riaprire il prima possibile. Intanto, strade alternative. Tutto questo fino a qualche ora fa, ma ora con il sequestro da parte della Procura di Pescara della Galleria San Silvestro, cosa accadrà?